Un maggio di grandi avvenimenti a Chieti con il Maggio Teatino e Malta Attac che si svolgerà il 12 di maggio. Tanti appuntamenti in città. Sì, tantissimi appuntamenti in città, oltre 100 per un calendario del Maggio Teatino ricchissimo di eventi. La novità assoluta è appunto l'inserimento di Malta Attac all'interno del Maggio Teatino e soprattutto all'interno dei giorni tradizionalmente dedicati alla festa del nostro santo patrono San Giustino. Quindi avremo dei festeggiamenti a partire dal 10 fino al 12 dove ci sarà appunto la serata clou dedicata a Malta Attac. Avete dislocato questi eventi in varie zone della città, ovviamente l'occhio di riguardo è sempre per il centro storico. Sicuramente sì, questi eventi abbracciano tutto il centro storico, da piazza Garibaldi, piazza Malteotti fino ad arrivare alla villa comunale, quindi interamente il centro storico. Ma sono interessati, alcuni eventi interesseranno anche le periferie della città. Soprattutto abbiamo un vostro contributo che ci è dato dall'università, dalle società sportive che faranno eventi nei vari palazzetti della città, nello Stadio Angelini anche. Quindi è un po' tutta la città, nella sua interezza, interessata a questo Maggio Teatino.